Eccoci qua ragazzi in diretta da Red Carpet Los Angeles, Hollywood per la precisione Siamo qui alla premiere di The Lion King C'è anche Cinco e il nostro amico Chiu che fa nel film Pasquale Stiamo entrando, stiamo entrando alla prima Red Carpet Eccoci qui, è quasi mezzanotte, è finita la premiere di The Lion King a Los Angeles è stata un'esperienza incredibile, fantastica, unica nel suo genere Devo ringraziare assolutamente Disney per avermi dato l'opportunità di essere qui e di aver contribuito a questo film, a questo caldo incredibile e vedremo ancora delle belle, credo che la realtà fra tutti c'è perfetta armonia e ognuno incanterà